Eccoci nuovamente insieme, prima di ritornare a parlarvi di calcio, ci occupiamo di arti marziali e di kendo. Andiamo a vedere. L'anno d'oro della sezione kendo, che letteralmente significa via della spada, della Cusferona, si è concretizzata in occasione dei campionati europei che si sono svolti a Lisbona. Giacomo Pezzo, 17 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Juniors, affermandosi come uno dei giovani più preparati a livello continentale. L'atleta Cusino era la prima esperienza internazionale, non si è lasciato per nulla intimorire da un debutto così importante. Il successo veronese è stato completato dalla medaglia meritata da Christian Filippi, responsabile tecnico del Cus e capitano della nazionale, al quale la giuria europea ha riconosciuto il miglior spirito combattivo. Filippi è andato a un passo dal podio nella categoria Dan, uscendo ai quarti al termine di un combattimento incerto sino all'ultimo secondo. In pratica le uniche medaglie maschili della spedizione azzurra sono venuti da due rappresentanti della nostra città, mentre le donne hanno portato a casa il bronzo, gli individuali con l'allivolsi e con la prova a squadre.